Massi Tigre, dal 8 al 17 dicembre c'è una grandiosa operazione sotto costo! Corro! Dal 8 al 17 dicembre, operazione sotto costo, Tigre e Massi Tigre, noi ci conosciamo bene! Questo è il classico Caduzzi. Questo è lo sposo Sanzi. You are the sunshine of my life. Questa è la nostra, Kito, Tomani, Barbaro, Armani Collezioni, Ego, I3, Montclair, Dio, Gico, Cegabbana, Pico, New York. Questo è lo stile Caduzzi. Qualunque sia il tuo stile, la tua destinazione è Caduzzi a Vigianessa, via Selvadiana a Casali. Un nuovo grande spazio per vestire la moda. Da essa arriva la ditta dei mails, da l'or. Senti facciare quel vento più fresco, che profuma di bosco. Ristorante La Rosa dei Venti, specialità a pesce, carne alla braccia e seppogine. 70.000 di vista al Pumannegna. La Rosa dei Venti, anche da pacchetti, cerimonie e servizio catering. Ristorante La Rosa dei Venti, in località marciale a Cevallo, L'Aquila. Per prenotazioni 086371187. Comunque tutto, è di nuovo.